ciao a tutti in questi giorni di clausura forzata chi vive da solo come me non ha un animale domestico e a un certo punto per evitare di farsi prendere dalla paura rispolvere anche vecchi sistemi che risalivano alla sua infanzia ad esempio il bambino per dormire sereno abbraccia il suo pupazzo quindi anch'io sono andato a ricercarmi pupazzi che avevo nell'infanzia per provare ad avere più serenità per riuscire a superare questo momento di paura che a volte può diventare anche angoscia e ho trovato conforto in questo pupazzo che mi tengo sempre vicino per superare le ansie funziona funziona